Scegli cosa disegnare. Muoviti. Ottantesimo anniversario della seconda guerra mondiale. Avvenuto il primo settembre in menacia 39. Questo conflitto lo ricordiamo per i morti che ci sono stati e la grande povertà che ha lasciato con tutte le guerre. Scegli cosa disegnare, le battaglie della seconda guerra mondiale o la povertà del dopoguerra. Scegli. Già te l'ho detto. Di segno. Di segno. No. Di segno. Di segno. Di segno le caserotte. Casi rotte. Con. Case rotte con. Di segno. Tutte rotte. Una casa bombardata. In che paese? Da quei paesi. Quello di Spagna. no prova o con ventilatore la povertà nel dopoguerra una penna disegna la battaglia o la povertà nel dopoguerra cosa vuoi disegnare le belle battaglie o la povertà nel dopoguerra cosa sceglie sceglie la povertà si disegno cosa sceglie cosa disegnare qualcosa disegna qualcosa disegna rovino ma c'è danni danni macerie lascia per il telefono cosa vuoi disegnare rovino danni o macerie cosa sceglie qua è peggio danni o macerie danni o macerie cosa sceglie sto filmando la tua mano ma c'è ma non vedo niente lo hai trovato gli occhi se si vede il resto non siete il resto un attimo qua povertà nella guerra c'è spagnola come tutte le guerre portano alla povertà soprattutto quando perdi anche la spagna ha subito la sua povertà dopo la guerra civile mette gli occhiali ma e no quello peggio danni o macerie danni o macerie due cose cosa disegnare macerie in che paese che luogo parla mentre parla parla mentre disegno parla mentre disegno parla cos'è cos'è una finestra rotta tutto rotto tutto rotto qua rotto vedo non c'è che luogo dici eh che luogo in che luogo che luogo si tratta che luogo si tratta che luogo si tratta dove che luogo questo è che cos'è una casa o una casa dove hai visto le persone non fanno le persone non fanno le persone persone ricche o povere persone ricche o povere persone ricche o povere tutto rotto le persone le persone dove sono ricche o povere povere come povere povere in che modo un palazzo rotto ehm un palazzo così proprio rotto che non ci sta proprio più vedi ma c'è questo è un palazzo noi sono le persone povere noi sono le persone povere noi sono le persone povere le macerie noi sono le persone povere distrutte le cose a terra noi, dove la gente le cose noi la gente povera cosa fa la gente povera cosa fa il legno io ho tenuto lì macerie un po' di macerie Dov'è gente povera? Dov'è gente povera? Dov'è gente povera? Dimmi! Dov'è gente povera? Disegna! Gente povera! Come è gente povera? Cosa fa gente povera? Come è gente povera? Denny che ne so! Diciamo le stesse cose! Tutto! Cosa fa gente povera? Cosa fa gente povera? Cosa fa gente povera? Cosa fa gente povera? Faccia? Faccia come la faccia? Perché faccia triste? Non c'è più niente! Mi straccia! Altri? 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 Cosa fa gente povera? Non c'è tempo di distrazione! Non c'è tempo! Perché gente povera? Se ci parlò! Motivo? Motivo della povertà! Perché? Perché c'è la distruzione! Distruzione! Frecce! Niente frecce! D'ora qui? Distruzione! Distruzione! Povertà! Qui c'è le tasche vuote! Vedo qua! Tasche vuote! Vedo qua! Si distracciato! C'è! 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 scrivete perché non c'è la registrazione almeno due o ancora ancora altri non scrivi la parola maceria rovine da cui danni da scegliere le rovine